Qual è la differenza tra un libro e un mazzo di carte? Che questo non è rilegato. Nel mio La magia dei libri racconto che nel 2004 Vanni Bossi colse alla perfezione l'unità di fondo tra l'idea di mazzo di carte e quella di libro, fondendoli in un unico oggetto, il numero 2 della sua rivista Ars Magna. Era composto da pagine slegate una dall'altra e distribuito in questo contenitore. Vanni distribuiva la rivista solo dopo aver mescolato le pagine di cui era composta, e questo perché i segreti cui contenuti fossero meglio protetti. Le pagine tra l'altro non erano numerate, ma in basso a ciascuna c'era il nome di una carta da gioco. Dunque l'unico modo per leggerne il contenuto era quello di preordinare le pagine in un ordine noto soltanto ai prestigiatori. Nel 1969 B.S. Johnson aveva applicato l'idea a un romanzo, pubblicando in balia di una sorte avversa. Anch'esso, distribuito all'interno di un contenitore, era composto da tanti capitoli separati che andavano, prima di leggere il romanzo, mescolati come un mazzo di carte. Così facendo, ciascun lettore avrebbe letto un romanzo diverso, composto da una sequenza di episodi in un ordine assolutamente unico e casuale. Questo riproduceva alla perfezione l'esperienza umana del protagonista, che era un cronista sportivo che aveva perso la memoria e che nel corso del romanzo cercava di ricomporla un pezzo alla volta in maniera assolutamente confusa. Come può un illusionista trarre ispirazione da queste idee? Per esempio introducendo un elemento di casualità nel proprio spettacolo. Quando ho presentato ad Ancona la magia dei libri, insieme a Fabio Camilletti, ho basato l'intera presentazione su questa, una plancia per un gioco dell'oca da me realizzato, in cui ogni casella corrisponde a una diversa tipologia di libro magico. Gli spettatori lanciavano un dado, io mi muovevo con il segnalino e a seconda di dove si finiva ogni volta raccontavo storie o dimostravo alcune magie legate a ciascuna tipologia di libro magico. L'audio della presentazione è online, quindi vi basta cercare la mia presentazione ad Ancona della magia dei libri per riascoltare come è andata in quell'occasione. E se sei un illusionista, aggiungo un dettaglio curioso. Il mazzo Svengali è esattamente il libro che si colora senza rilegatura.